Il senatore del Partito Democratico Michele Fina ha tracciato il bilancio di questi due anni di mandato. Fina ha inoltre annunciato le battaglie che condurrà in Senato per quanto riguarda le scuole cui ragazzi, quelli aquilani, sono costretti a svolgere l'intero ciclo scolastico in condizioni precarie e per quel che concerne la legge sulla montagna che dopo domani approderà proprio in Senato. Due anni di impegno per l'Abruzzo e poi di impegno nella Commissione Infrastrutture, Trasporti, Ambiente, Transizione Digitale, Innovazione Tecnologica, Comunicazioni. Quindi due anni di impegno che voglio raccontare come faccio di consueto anche attraverso i numeri, il numero di interrogazioni, i disegni di leggi, gli interventi, ma anche gli incontri, le iniziative, le riunioni e poi naturalmente i risultati di queste battaglie. Purtroppo evince anche da questo racconto dei numeri che a molte delle questioni che noi abbiamo sottoposto al governo, dal lavoro alla sanità, dalle infrastrutture alle scuole, non ci sono state risposte. Molto del lavoro parlamentare di opposizione finisce nel vuoto in un governo che tende a fare da solo e spesso è sordo a qualunque tipo di questione posta dai territori. E poi emerge che l'Abruzzo è particolarmente penalizzato, al contrario di quello che si tende a raccontare, senza dubbio al centro dell'interesse politico per i voti che può raccogliere il principale partito di governo, ma è penalizzato in termini di scelte, di investimenti, di risorse, soprattutto di scelte che riguardano il futuro. L'emergenza scuola all'Aquila la porteremo in Senato, faremo un incontro in cui analizzeremo davvero la questione che riguarda gli indici di vulnerabilità, ma anche in generale il fatto che in questa città, in modo emblematico per il Paese, i ragazzi sono costretti a studiare per l'intero ciclo di studi in situazioni precarie. Dopodomani interverrò in aula sulla legge sulla montagna perché c'è un'enorme questione aree interne che nessuno vuole affrontare con determinazione. Noi pensiamo che sia davvero il tempo di una fiscalità dedicata che consenta a chi vive nelle aree interne di poterlo fare in modo più comodo dal punto di vista fiscale perché in realtà vivere in queste zone è più costoso e a volte diventa eroico.